Benvenuti a Federico e Eleonora che ci hanno invitati a partecipare alla fondazione della loro famiglia. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti per essere qui a condividere con noi questa nostra felicità! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!